Stava facendo la sua solita camminata lungo via Someda a Salboro la cagnolina Zoe quando è stata avvicinata da due cani senza guinzaglio. Uno dei due era un pitbull che ha zannato il piccolo cane di razza maltese. Subito la proprietaria di Zoe ha cercato di salvarla dalla morsa dell'animale. In un primo momento non c'erano tracce di sangue ma la bestiola faceva fatica a respirare. Immediata la chiamata al 112 che ha passato il caso all'URSS veterinaria di Selvazzano Dentro. Nel frattempo Zoe è stata portata in un pronto soccorso per animali di una clinica privata. Da subito è stato rilevato uno schiacciamento dei polmoni che è sembrato grave ma operabile. Una corsa a casa per avvisare la famiglia che Zoe sarebbe stata operata. Poi la telefonata dalla clinica che annunciava la morte della cagnolina. Straziata la proprietaria di Zoe ha sottolineato come potesse esserci suo figlio di sette anni in passeggiata con loro. I proprietari del pitbull non erano a casa, l'animale probabilmente è fuggito dall'abitazione. Resta lo sconforto di una famiglia che con il piccolo maltese perde un suo membro.